Bene. Onorevole Dominici, a nome dell'Sd. Grazie Presidente, mi rivolgo solamente al Presidente dell'ESMA Maggiorra, così risparmiamo anche tempo. Nel luglio scorso, come relatore sul regolamento numero 3 delle agenzie di rating, inviai una lettera all'ESMA in cui chiedevo se nelle valutazioni di Outlook nel lungo termine da parte di Standard & Poor's sull'Italia si rispettassero quelli che sono i principi contenuti nel nuovo regolamento. Anche se il nuovo regolamento non era pienamente applicato, si trattava comunque di fare una simulazione per verificare eventuali problemi. Il direttore esecutivo, Veronica Ross, mi rispose cortesemente, sottolineando che ESMA will carefully review SNP's rating action as part of its ongoing supervision. Ora, io mi concentro sulla questione dei sovereign debt ratings, perché penso che stiamo ancora una volta entrando in un momento molto delicato. la collega Goulard ha già fatto riferimento all'Italia, ma io non voglio parlare come italiano del mio Paese. Io parlo come parlamentare europeo preoccupato dell'impatto sistemico della crisi italiana sull'Eurozona e sulla Unione Europea. Ora, se la situazione è questa, è necessario assicurarsi preventivamente che le agenzie di rating siano rispettose, che vi sia compliance delle nuove norme. Io credo che un'autorità di vigilanza debba non tanto riparare i danni, ma evitare che ci siano danni che derivano da un mancato rispetto delle regole. Allora, per sottolineare e marcare questo aspetto, ESMA potrebbe rivolgere alle agenzie di rating una sorta di memento, per usare una parola latina, di warning, richiamando i punti qualificanti del nuovo regolamento che riguardano la valutazione del debito sovrano, accuratezza, trasparenza, prevenzione dei conflitti di interesse, comunicazione delle ricerche, rispetto del timing ed esclusione di raccomandazioni o prescrizioni politiche. E inoltre, le chiedo e concludo, a questo proposito, è possibile che ESMA anticipi i tempi di comunicazione e di pubblicazione del report sulle review riguardanti i sovereign credit ratings di cui lei ha parlato e di cui parlava anche Verena Ross nella lettera di luglio. Grazie. La ringrazio per queste domande che sono molto importanti sulla valutazione del debito sovrano. Il caso specifico dell'Italia che lei ha citato. Ebbene, noi nella supervisione utilizziamo dei segnali che otteniamo da fuori, su possibili questioni legate alla valutazione. È una parte importante. Studiamo questi segnali. Quando li riceviamo contemporaneamente, consideriamo i requisiti di riservatezza. Non possiamo dunque dire cosa è stato fatto dei segnali, come sono stati utilizzati. e nel caso specifico di una singola serie non possiamo rivelarli e neanche la questione se c'è stata un'ulteriore indagine su questo punto. È difficile per me come supervisore dare ulteriori informazioni specifiche. L'osservazione generica che posso fare è che studiamo approfonditamente la questione della valutazione dei debiti sovrani. Studiamo questioni come la regola della dodicesima ora, studiamo l'interazione con le relazioni di ricerca scritte dalle agenzie. pubblicheremo il risultato finale di questa revisione sulle tre principali agenzie di valutazione del credito prima della fine di quest'anno. Questo richiederà l'approvazione del mio board, ma questa approvazione penso di averla prima della fine dell'anno. e potremmo dunque pubblicare la relazione prima della fine dell'anno. E se troveremo difetti a livello di agenzie di crediti, quando succede chiediamo piani d'azione per riparare gli errori che abbiamo trovato. e sulla base del regolamento, se vediamo una possibile violazione del regolamento, siamo tenuti a nominare una IIO e nella nostra relazione che abbiamo presentato al Parlamento potete vedere che l'anno scorso due volte abbiamo trasferito il caso all'Independent Investigation Officer, IIO, funzionario di indagio indipendente. L'unica cosa che vorrei sottolineare è che quando vediamo una violazione del regolamento CRA dobbiamo agire e agiamo.